Vi presento il saccoletto Litec 700 Square, è un saccoletto per utilizzo estivo per chi necessita di pesi e ingombri minimi. L'imbottitura HTF Compact garantisce un'elevata capacità termica, unita ad un'ottima comprimibilità e morbidezza. Il sistema OneTouch permette di chiudere ed aprire il cappuccio dall'interno con una sola mano. Per ridurre la dispersione di calore dall'interno del saccoletto, la cerniera di chiusura è dotata al suo interno, per l'intera lunghezza, di coprilampo. Il cappuccio è sagomato per una maggiore protezione della testa dal freddo. È disponibile con cerniera destra e sinistra, ciò permette di attaccare insieme i due sacchiletto. La lampo a due vie, laterale ed inferiore, permette di aprire il fondo del saccoletto quando fa caldo, regolando la temperatura interna.